Riciclare il pet? Io? Sempre. Sì, tranne durante la pausa pranzo, perché qua non c'è un pet box nelle vicinanze e dovremmo buttare via le cose in un secchio normale. Le bottiglie in pet vuote non sono spazzatura. Solitamente possono essere riposte nei contenitori di raccolta negli uffici. Riciclare il pet è sempre possibile.